Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ce l'ho fatta, finalmente ho comprato la fotocamera dei miei sogni, la A7 IV di Sony, e sono contentissimo. Voi non potete capire cosa si prova ad avere finalmente tra le mani una macchina professionale, un qualcosa che ho desiderato per tanto tempo, per cui ho pazientemente messo i soldi da parte e che adesso finalmente sono riuscito a prendere con grande soddisfazione, anche grazie al vostro aiuto. In questo video vorrei spiegarvi da dove nasce il desiderio di avere una fotocamera di questo tipo, molto performante, molto costosa, che cosa mi ha convinto a fare il grande passo, a spendere una barca di soldi per comprarla, e cosa vorrei fare adesso, quali sono le mie ambizioni, ora che ho a disposizione una macchina di alto livello. Vorrei anche spiegarvi in maniera veramente molto molto veloce, molto semplice, e quindi comprensibile anche a chi non sa nulla di fotografia, quali sono i punti forti di questa fotocamera, quali sono le caratteristiche che mi permetteranno di fare foto e video mostruosi, e che permetteranno a voi di immergervi totalmente nelle mie avventure, di apprezzare ogni dettaglio degli ambienti naturali che andrò ad esplorare. Procediamo con ordine, state con me. Quando ero ragazzino negli anni 90 avevamo in casa una videocamera, non ricordo se l'avevamo acquistata o se ce l'avevano regalata, e i miei genitori la utilizzavano per fare i classici filmini delle vacanze. Inutile che vi dica che le vacanze erano sempre in montagna, in particolare sulle montagne del Trentino. Molto tempo dopo, nel 2011, mi è scattato un interruttore. Il mio cervello ha deciso improvvisamente di ritirare fuori questa idea della videocamera e delle riprese all'aperto. Grazie cervello che in momenti di profonda crisi avevo immagini rassicuranti della mia infanzia. Con i pochi risparmi da studente che avevo all'epoca ho acquistato una videocamera economica, la prima videocamera tutta mia. Ho iniziato a fare i filmini delle escursioni con gli amici, a caricarli su YouTube e dopo una serie interminabile di avventure, eccoci qua. Fin da quando ero bambino, e la cosa prosegue tuttora, i momenti più felici e più emozionanti della mia vita li ho passati all'aria aperta. Si dice che la vita non può essere allungata, ma può essere allargata. Possiamo vivere due, anche tre vite se riempiamo la nostra esistenza di cose belle, di esperienze, di avventure. E per me il concetto di avventura è mettere due cose dentro uno zaino, uscire di casa e andare ad esplorare tutto quello che c'è là fuori. Ho aperto il canale e continuo a mandarlo avanti perché vorrei tanto che questo concetto di allargare la vita arrivasse anche a voi. Ho un messaggio da comunicare al mondo intero e sono convinto, e questa cosa ve l'avevo già detta in tempi non sospetti, che il modo con cui si comunica un determinato messaggio è importante quanto il messaggio stesso. Come faccio a farvi innamorare del bosco se non sono in grado di mostrarvi il bosco in tutti i suoi dettagli, in tutta la sua bellezza? Potrei farlo con le parole, ma non è sufficiente. Ci vuole la potenza delle immagini. Da qui nasce il desiderio di fare delle belle riprese, e per fare delle belle riprese ci vuole una videocamera costosa. L'ho sempre desiderata fin dall'inizio, ma non ho mai avuto il coraggio di spendere certe cifre. Sono una persona abbastanza responsabile. Prima di fare un acquisto ci penso 10.000 volte. Lo faccio con le stupidate da pochi euro, lo faccio a maggior ragione, con le spese importanti, perché ci tengo molti ai miei risparmi e l'idea di intaccarli pesantemente non è che mi fa sentire molto a mio agio. Sono anche una persona pragmatica, quindi il concetto di spendere una barca di soldi per acquistare una fotocamera professionale da destinare a un canale che non è professionale, o meglio, è professionale nel modo che ho io di gestirlo, ma di fatto è un canale che non è mai decollato, che non ha mai raggiunto grandi numeri, da cui non guadagno praticamente nulla e che ultimamente, come tanti altri, sta andando anche piuttosto maluccio. Quindi mi sono detto, boh, ma sarà una cazzata. Vi sto raccontando cosa è avvenuto nel mio cervello nell'ultimo anno e mezzo. Poi però dall'altra parte avevo altrettante motivazioni valide per fare il grande salto. Sono tanti anni che fai riprese e ti meriti una macchina all'altezza della tua creatività. È la tua passione, non fai nient'altro, non spendi per nient'altro. Puoi spendere per la tua passione. Da una parte non comprare, non comprare, non comprare, non comprare, dall'altra compra, 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 compra. Ecco, immaginate sta cosa nella mia testa tutti i giorni per un anno e mezzo. Allora certo ho detto, senti, o meglio una terza parte del mio cervello ha detto, senti, ma se coinvolgessi i tuoi iscritti, perché ti ostini a fare tutto da solo quando puoi chiedere un parere a delle persone che hanno voce in capitolo, perché sono quelli che ti guardano? E così ho lanciato la campagna 1€ per la fotocamera dei miei sogni. Ho messo il link Paypal in descrizione e ho detto, vediamo che succede. E raga, voi non avete idea di cosa avete fatto. Hai capito che hanno fatto? Diceva Richard Benson in un video che mi sembra si chiami Richard Benson e le conseguenze della Pasqua, probabilmente sta ancora su YouTube. È uno sketch in cui lui si mette a gridare e a inveire contro la gente, perché durante le vacanze di Pasqua hanno mangiato troppe colombe, troppi dolci e sono andati a cesso 10.000 volte. Ma vabbè, a parte questo. La vostra partecipazione è stata incredibile. Avete donato, mi avete mandato dei bellissimi messaggi di incoraggiamento, mi avete pompato, mi avete gasato, e quindi come facevo a non prenderla? Sei davvero una persona che non intenzionalmente ha condizionato positivamente le vite di un'intera famiglia. Questo è un pezzettino di un messaggio tra i più belli che mi sono arrivati. Non aggiungo altro perché questa persona mi ha chiesto la massima riservatezza. Approfitto per mandare un saluto e un abbraccio a questa famiglia. Spero che mi stiano guardando. Ce l'abbiamo fatta. A quel punto era chiaro che dovevo prenderla. L'avrei presa comunque, ma il vostro aiuto mi ha permesso di effettuare l'acquisto con parecchi mesi di anticipo e considerate che ho già fatto un po' di video che sono pieni di errori, perché devo ancora imparare ad usarla bene, ma che non vedo l'ora di mostrarvi. Grazie per il vostro supporto. Vi dico questo e basta, perché secondo me è inutile stare a fare troppi discorsi. Se avete donato è perché amate questo canale almeno quanto lo amo io e volete che continui a crescere e a migliorare sempre di più. E il modo migliore che ho per ringraziarvi è continuare a fare video al massimo delle mie possibilità e con questa il massimo delle mie possibilità ha subito una bella impennata. Nel prossimo futuro vorrei portarvi video di trekking, di esplorazione di zone remote, di sopravvivenza. Vorrei fare una sfida survival completamente primitiva. Da un paio d'anni mi sono fortemente appassionato anche alla fotografia e quindi ragazzi seguitemi su Instagram, il link è in descrizione, perché prossimamente vorrei postare anche delle belle foto. Ora che ho a disposizione una macchina professionale vorrei ampliare le mie conoscenze di fotografia e di videomaking, imparare ad usarla benissimo e magari svolgere qualche lavoro per qualche azienda. Scattare delle foto, girare dei piccoli spot. All'Alex Wonder diciamo, che è uno dei miei punti di riferimento per quanto riguarda questo mondo. Ho magari di speciale sta fotocamera che costa un botto di soldi, perché le immagini sono molto più belle rispetto a quella con cui sto girando adesso, che comunque è un'ottima macchinina. Ve lo spiego in maniera super veloce in 3 o 4 punti. Seguitemi per bene, perché poi vorrei che voi notaste queste differenze nei prossimi video. Prima cosa, il sensore della fotocamera. Penso che tutti voi sappiate che un video non è altro che una sequenza di immagini, o meglio, una sequenza di fotogrammi. Io di solito giro a 25 fotogrammi al secondo, il che significa che la mia fotocamera ogni secondo scatta 25 foto e poi le mette tutte quante insieme, una pressa all'altra, per creare il video. Come fa la macchina a trasformare la realtà in immagini? Ricevendo della luce e il compito del sensore è proprio quello di catturare la luce che penetra all'interno della macchina attraverso l'obiettivo. Il sensore è l'equivalente digitale della vecchia pellicola che si utilizzava una volta. Esistono diversi tipi di fotocamere che montano sensori di dimensioni diverse ed ho preparato dei cartoncini per illustrarvi un po' questa cosa. La fotocamera con cui sto registrando ora è una compatta, la ZV1 di Sony, ed ha un sensore da un pollice che ha queste dimensioni. Ovviamente l'ho ingrandito dieci volte per farvelo vedere meglio. Il sensore vero è piccolino e si trova all'interno della macchina fotografica. L'Alfa 7.4 invece ha un sensore full frame che è così. Vedete? Ve li metto vicini per fare il confronto. Anche questo è ingrandito di dieci volte e come vedete è molto più grande. Un sensore più grande permette di catturare una maggiore quantità di luce. Più luce significa più dettagli e quindi riprese più realistiche. E a me questa cosa farà molto comodo visto che riprendo sempre in condizioni di scarsità di luce. Nel bosco, all'ombra degli alberi, la mattina presto, al tramonto, di notte. Pensate a quando faccio i campeggi invernali, che fa buio ai 4.5, praticamente metà delle scene sono girate di notte. Un sensore performante permette inoltre di avere un'ampia gamma dinamica. La gamma dinamica, ve lo spiego in maniera veramente molto stupida, quindi non si scandalizzino videomaker professionisti, è la capacità della fotocamera di catturare buoni dettagli sia nelle zone in ombra sia nelle zone molto illuminate quando queste sono presenti contemporaneamente nella stessa inquadratura. Ed anche questo è un aspetto che contribuisce a rendere le riprese molto più realistiche, molto più simili a ciò che noi vedremmo con i nostri occhi. Altra caratteristica molto interessante di questa fotocamera è che gira video con una profondità di colore di 10 bit, a differenza di quella che invece gira ad 8 bit. La profondità di colore si misura appunto in bit e tra 8 bit e 10 bit c'è un'enorme differenza. Quella cattura circa 16 milioni di sfumature di colore, questa qua ne cattura un miliardo, il che significa, come al solito, riprese molto più fedeli alla realtà. Ultima cosa importante ragazzi è l'obiettivo, se si vogliono avere riprese di qualità ci vuole certamente un buon corpo macchina, ma ci vuole anche un'ottica di qualità. Considerate che questo obiettivo da solo costa di più dell'intera macchina con cui sto girando adesso. È un obiettivo cosiddetto tuttofare perché dispone di diverse lunghezze focali, da 24 a 105 mm. Quindi ho a disposizione un grandangolo, il 24 mm, che inquadra una bella porzione di roba, che posso utilizzare per inquadrare me stesso, senza dover allungare tantissimo il braccio, o per filmare magari un paesaggio. All'occorrenza posso zoomare per inquadrare soggetti più lontani, come ad esempio degli animali selvatici di passaggio. Quello della compatta è un 24-70, questo è un 24-105, il che significa che ho a disposizione un po' più di zoom, posso arrivare un pochettino più lontano. Ma la cosa veramente rivoluzionaria per me è il fatto di poter cambiare l'obiettivo. Finora ho sempre girato con videocamere e fotocamere con ottica integrata, quella hai e quella ti tieni. Questa invece è una fotocamera mirrorless che ha quindi la possibilità di poter cambiare l'obiettivo. Voglio mostrarvi un super paesaggio che non c'entra tutto nel 24 mm, posso montare un 20 mm per avere un angolo di visione più ampio. Ho la necessità di fare delle riprese di notte con solo la luce del fuoco, perché se accendo il faretto LED me se magnano i calabroni. Posso montare un obiettivo più luminoso che abbia un'apertura del diaframma maggiore. Sapete che il diaframma è quel dispositivo che si apre e si chiude e che quindi consente di far passare attraverso l'obiettivo e quindi di far arrivare al sensore la quantità di luce desiderata. Questo arriva a un massimo di f4, vedete? Potrei montare un f.8. L'apertura del diaframma si misura in f più un numero. F.8 ha un'apertura maggiore rispetto ad f4, quindi fa passare più luce e quindi è un'ottica più luminosa. Ovviamente le ottiche buone costano un sacco di soldi e non ci penso nemmeno a montare ottiche economiche su una macchina del genere. Per il momento ho solo questa, l'ho acquistata apposta perché avrà tutto fare. Nel prossimo futuro voluterò di prendere altri obiettivi ed è bello sapere di avere questa possibilità. Ragazzi spero con questo video di avervi fatto capire quanto sono contento di aver preso la fotocamera nuova e quanto vi sono grato per avermi aiutato. Con questa macchina le mie riprese saranno molto più dettagliate, molto più realistiche. E voi che mi seguite potrete vedere tutto ciò che vedo io quasi come se lo vedeste con i vostri occhi. Non vedo l'ora di mostrarvi i prossimi video ragazzi. Vi saluto, vi abbraccio, a presto. Grazie. Grazie.